Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo nuovo video facciamo un confronto tra il ferrino agile e il ferrino finister. Visto che me l'avete chiesto in tanti, vediamo quando ha senso comprare un modello rispetto che l'altro. Iniziamo il video. Iniziamo il video parlando un attimo dei modelli che abbiamo qua. Abbiamo il modello finister 38 litri maschile e il modello agile 25 litri, purtroppo non ho più il 35, mi è rimasto solo il 25, ma comunque le considerazioni che andrò a fare valgono anche per il 35, e dicevo modello 25 maschile. Di entrambi gli zaini vi ricordo che esiste anche la versione femminile nel caso in cui vogliate acquistare quella. Iniziamo a parlare degli zaini in base al loro peso. Modello finister 38 litri pesa all'incirca, come abbiamo detto dalla recensione, sul 1,3 kg, 1,3 kg. Il modello agile invece da 35 litri, quindi restando più o meno sullo stesso litraggio, sfiora il chilo, dovrebbe essere attorno ai 950 grammi. Quindi abbiamo una differenza di peso abbastanza notevole, diciamo che sta attorno ai 400 grammi. E ora vedremo anche dove c'è questa differenza di peso. Iniziamo a parlare dei due modelli partendo dagli schienali, che sono una delle grosse differenze. Sul finister troviamo uno schienale a rete con una parte ergonomica, come abbiamo visto, che ci dà modo di poter staccare lo zaino dalla nostra schiena. Quindi qui in questo punto abbiamo proprio uno spazio di distanza tra la nostra schiena e lo zaino. Sul modello agile invece, come potete vedere, abbiamo una struttura completamente diversa, fatta sia a rete ma con tutta questa parte ergonomica, che rende lo zaino praticamente sempre attaccato alla schiena. Come vi ho raccontato nella recensione, entrambi gli zaini traspirano bene. Però, volendo scendere proprio nel dettaglio, andando proprio a trovare il pelo nell'uovo, sicuramente il finister traspira decisamente meglio. Mi spiego. L'agile, come voto, potremmo dargli un 8. Anche perché poi va sempre contestualizzato a dove andrebbe utilizzato il modello agile. Questo però lo vedremo dopo. Quindi, dicevamo, al modello agile andrei a dare un 8. Mentre al modello finister gli darei un 9, perché è comunque più traspirante. Anche dal punto di vista dello scarico del peso, come abbiamo visto nelle recensioni, vi avevo consigliato di utilizzare l'agile al massimo con 10 kg. Ma con 10 kg, io intendevo dire che a 10 kg comunque si stava già un po' scomodi. Cioè, proprio massimo massimo. Per utilizzarlo al meglio io non andrei oltre i 7-8. Cioè, 7-8 kg è proprio il punto in cui, superato, iniziamo a sentire già qualche dolorino, qualche fastidio. Questo modello finister, invece, grazie a tutto il suo fascione bello imbottito, allo scarico del peso, eccetera, ci dà modo di poterlo utilizzare oltre quei 7-8 kg. Quindi possiamo utilizzarlo benissimo anche a 12-13 kg. Penso che questi siano i kg massimi, oltre il quale inizieremo davvero a sentire, anche in questo caso, dolori. Quindi queste sono già due grosse differenze. Il finister è sicuramente molto più traspirante rispetto all'agile, e, allo stesso modo, il finister risulta avere un maggior scarico del peso rispetto al modello agile. Passiamo ora alla parte anteriore. Anche qua troviamo delle grosse differenze. Il modello agile praticamente è una tasca unica. Cioè, noi l'unico punto d'accesso che abbiamo è dall'alto e, vabbè, nel 25 non è un grosso problema, ma nel 35, quindi la versione che più si avvicina al 38 del finister, avere una tasca unica, quando dobbiamo andare a prendere la roba in fondo, Piatri non è così semplice, cioè bisogna ravanare o comunque andare completamente a svuotare lo zaino. E questo può essere considerato magari un punto non proprio positivo. Mentre il modello finister, da questo punto di vista, avendo l'apertura sotto, dove poter tirare fuori un sacco pelo, comunque qualsiasi cosa abbiamo nella parte bassa dello zaino, ci dà modo di poter utilizzarlo sicuramente meglio, di poter arrivare agli oggetti che abbiamo messo all'interno sicuramente più rapidamente. E allo stesso modo troviamo numerose tasche in più. Facciamo un esempio. Questa taschina sul davanti, comunque comoda, perché ci possiamo inserire dentro qualche cartina, eccetera, di qua non l'abbiamo. Sul modello agile abbiamo questa tasca a rete, che però, vi dico la verità, come potete vedere, nell'arco dell'utilizzo si sta abbastanza distruggendo. Comunque, teniamo conto che una tasca a rete sicuramente ci garantisce anche meno privacy rispetto a una tasca chiusa, dove non si vede dentro cosa c'è. Dal punto di vista, poi, del trasporto del materiale, questi zaini sono praticamente identici, perché su entrambi troviamo i laccetti che potrebbero andare esternamente per trasportare ciaspole, trasportare una tenda. Quindi, a questo punto di vista, sono praticamente identici. Per quanto riguarda lo stoccaggio dell'acqua, qui ne abbiamo parlato bene in entrambe le recensioni, troviamo delle tasche a rete sul modello agile, che però risultano essere un pochino dure. Mentre sul finister abbiamo visto che abbiamo delle tasche completamente chiuse, dove all'interno ci vanno messe delle borracce lunghe e strette. Diciamo che le soluzioni non mi hanno convinto particolarmente entrambe. E sempre per quanto riguarda il comparto acqua, precisiamo che sul finister abbiamo anche il rain cover integrato che si trova nella parte inferiore. Sull'agile non c'è, dovremo comprarlo separatamente. Ma veniamo al punto clou del video. Quando ha senso acquistare uno rispetto che l'altro? Iniziamo dal modello agile. Il modello agile è uno zaino, come abbiamo visto, che pesa poco. È uno zaino che va bene, traspira bene, scarica bene, ma non al top. Quindi è uno zaino che, grazie anche alle sue dimensioni ridotte, non ci aumenta la grandezza della nostra schiena. E grazie alla possibilità di mettere anche fuori un casco tramite l'Helmet Holder, ci dà la possibilità di poter fare trekking più impegnativi, di andare oltre a semplice trekking. Quindi poter fare vie ferrate, di poter fare magari anche del semplice alpinismo, di poterlo utilizzare magari anche d'inverno facendo delle lato sci alpinismo. Va bene un po' ovunque, ma va ad elevarsi rispetto a semplice trekking. Però non è uno zaino pensato per i trekking a bassa quota. Faccio un esempio. Un cammino di Santiago con un ferrino agile, io non ve lo consiglierei di farlo, non tanto perché non vada bene lo zaino, quanto più per la traspirazione, perché in quei casi lì, su cammini di questo tipo, dato che sono a bassa quota, le temperature sono elevate. E in questo caso penso che uno zaino, come può essere il finister, quindi con una traspirazione maggiore, in questi casi, in questi cammini di solito, magari si porta anche qualche peso in più, quindi può essere sicuramente una scelta migliore. Come dicevo, questo finister aumenta la portata di carico, 12-13 kg al massimo. E pensando di magari portare anche una tenda o via dicendo, è sicuramente più consono. Aggiungo inoltre che tutto il sistema di tasche, quindi di poter imporre la roba in maggiori tasche, poter organizzare meglio la possibilità di aprirlo anche nella parte inferiore, ci aiuta sicuramente di più in questo tipo di avventure in montagna. Però purtroppo questo zaino si ferma qua, cioè trekking, semplici e basta. Io con questo zaino non ci farei sicuramente dell'alpinismo, assolutamente no, ma nemmeno delle vie ferrate, perché comunque andando ad aumentare la larghezza della nostra schiena, con questo andremo a strusciare praticamente contro qualunque roccia e naturalmente anche a rovinarlo. Detto ciò ragazzi, io nella speranza di essere stato esauriente e resaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!